Nuova misura giovani di Regione Lombardia per aiutare l'insegnamento dei ragazzi e delle ragazze di agricoltura. In questi anni abbiamo finanziato dal 2014 ad oggi ben 1141 nuove aziende nate grazie al contributo a fondo perduto di Regione Lombardia. Oltre 30 milioni stanziati a testimonianza della volontà concreta ed efficace di aiutare i giovani di insediarsi a rendere questo settore straordinario della vita economica lombarda un settore più giovane, fresco, dinamico e attento al futuro. Con la nuova misura giovani che uscirà il 17 di marzo raddoppiamo i fondi per i giovani agricoltori lombardi. Si passa da 20 a 40 mila euro come contributo a fondo perduto in zona di pianura fino a 50 mila euro in zona svantaggiata di montagna. In modo concreto, efficace, significativo per aiutare con risorse fresche e vere i giovani che vogliono avventurarsi nell'agricoltura, creare una nuova azienda, subentrare a nonni o a genitori, anziani, insomma costruirsi un futuro nell'agricoltura in Lombardia.